Ebbene sì, questo che vedete è l'ultimo gatto maschio di Roma. Però non ci sono più femmine. Le signorine gatte sono state tutte sterilizzate. Però alcuni maschietti, e forse lui è l'ultimo, è ancora tutto integro e sano in quelle parti. Per cui i veterinari lasciassero qualche gattina ancora disponibile, perché sennò sti porelli diventano tristi tristi, e li senti che piangono, piangono alla ricerca di una bella gattina. E non la trovano. Sono tutte sterilizzate. Vedi? Avete visto? E lui è maschio a tutti gli effetti, ma proprio al 100%. Ah, vedi com'è triste? Guarda che occhio triste. Eh, non trova la fidanzata. Eh, non soffila nessuno, perché come si avvicina a una gattina sterilizzata, gli soffia o scappa via. Eccolo lì, guardalo qui, porello. Eppure è giovane, c'era un anno, un anno e mezzo. Fino a poco tempo fa era proprio cucciolotto a giocare in lava. Guarda qua lì, quanto è triste. È un gatto selvatico, eh, non è mio. Passa ogni tanto qui nel giardino, si mette a prendere un po' di sole. Avete visto, no? Che è proprio maschietto maschietto. Non gli hanno fatto il servizio i veterinari. Ai maschietti li lasciano sani. Alle femminucce le sterilizzano. Eh, oh, e questi che fanno? Piango. Eccoli, vedi? Avete visto com'è maschio? Proprio maschio, maschio. Eh, e quindi... C'è da risolvere qualcosa. Tocca a mettere qualche femminuccia... Bisogna mettere qualche femminuccia ogni tanto in giro. Di gattina. Una per ogni quartiere. Perché i maschietti... Ce ne sa di meno, eh. Io qui intorno ne vedo solo lui e un altro. Ma è vecchiarello quell'altro, quindi non fa testo. Non gli porta via nulla a lui. Ma lui è triste. Ogni tanto senti... Che cerca, cerca. Ma non la trova. Non ce stanno. I veterinari hanno fatto strage delle gattine. Non che le hanno fatte fuori. Ma le hanno sterilizzate. E queste, come se arriva vicino a un maschio, graffiano, soffiano. Eh, non... E guarda lì. Guarda lì quanto è triste. Triste, triste, triste. Guarda. Ha visto mai un gatto così triste? Eh. Non ha mai visto una gatta femmina... femmina non sterilizzata in vita sua. Però l'istinto è l'istinto. Non l'ha mai conosciuta, io credo, una gatta non sterilizzata. Io non ne ho mai viste qua intorno. Cinque, sei sterilizzate girano, ma solo quelle. E lui che fa? Eh, dorme o è triste. No, non dorme. No. No.